bella a tutti da svideogame 74 e oggi facciamo questo nuovo giochino indie che ho trovato in un indie bundle allora mettiamo subito il nome e non so, guarda non so com'è perchè l'ho appena scaricato quindi non so subitamente niente ehm già sto a lavoro campagna campagna proviamo beh tanto da vedere com'è part 1, part 2, part 3 quello faccio di mappa questa dai vediamo un po' ragazzi ragazziiii vediamo un po' com'è questo giochino cube 2 così ogni tanto è bello fare quel giochino diverso da vedere un po' com'è ah oh ah bruttazzi cosa sono sti? aspetta che andiamo avanti uh 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 che effetti dai qual è sì ah dai assimilare ahah oh ragazzi come tutte le cose di aiuto comunque i bidoni esplodono il western nordline, il monster sta di armon e ha bisogno di munizioni ok mi faccio prenderlo ok già croeta croeta come si fa a prendere gli oggetti? non ci sono le opzioni option vediamo some mouse key allora left right jump si salta attack mouse 1 take a zoom stay calm show score screenshot set weapon ok 0 1 2 3 4 5 e per prendere qualcosa? hm vabbè ok utilizza ah così cambio le armi con i tasti ohohoho! è l'amutata serena! no ok, ci ha già roto palco Allora... Cioè sono veramente... Sono più imbranato che in Black Ops 2 Ma non è vera, è impossibile È l'armatura questa? Cosa spara? E crepa! Ah ti nascondi te? Sì Devi cambiare armi Sono uguale, ma ti vedo che c'è dietro Ah, l'ho fatto scoppiare col bidone Ah, ce n'è un'altra Oh, ma ha dato un po' di medicazione Ehi, che arma lunga! Ehi, che arma lunga! Se mi... eh! Porca il cane, ma prego! Ah... Alalalalalooo Eeeh proprio adaci! Headshot! Bene Adesso? Si sale? No Sono appena sceso perché dovrei salire Eh... dove devo andare? Oh, devo andare ancora più giù, giusto? Crepa, crepa, cornutone, cornutone, crepa, vuoi crepare? Si, 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 si è risucchiato Mi stai effettando E va Oh, l'happantone Salute Eh, vacco cane Eh, vacco cane Crepa, 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 crepa... Non c'è un'arma più govosa? Oh, là Trovai l'arma più govosa Ufffuffuff Mi fa capire tutto a fuoco tutto a fuoco il sole Oooooooohh Nani E quanta gente c'è Aiuto Troppe 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 Eh sono uno sfigato Ma cosa vado con una motosega contro il bidone Poi mi perdo Poi mi perdo Mi perdo un Tan 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 Nooo Come siamo roccheggianti eh qui con la musica però Cuccio questo Mi cuccio questo Mi cuccio questo Qua c'è un'altra cosa Ok Punti Io ho capito che mi ha dato punti qui Insieme Cucciamo Ho preso Health Boost Ok Voglio scendere qua Voglio scendere qua Boh Oh Treppate per bene Oh Treppate per bene Oh Aiuto Eh Prende per la trarnatura Ok Prende per la trarnatura Ok Aiuto Aiuto Ah Oh ok Ok. Che bella bene. Che bella. Che bella. ecco 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 qua una bella no vabbè dai ragazzi ho capito un po' la andiamo era tanto così per provare un giochino questo giochino free per vedere un po' com'era ciao ciao ragazzi da this video game ciao ciao ciao